Buscadero nasce nel 1980, in un'epoca senza computer, senza email, senza Amazon e senza cellulari. Una rivista di musica dal nome improponibile, tratto dal famoso film con Steve McQueen e che vuole far conoscere musicisti di talento ma poco noti ad un pubblico vasto e affamato di musica. Nel 1980 le canzoni si ascoltavano solo su vinile e alla radio, non c'erano i CD e non esisteva il download. Il pubblico impazziva per i Duran Duran e per Michael Jackson e il panorama musicale stava rapidamente cambiando. Il progetto di Buscadero, da subito indipendente dalle pressioni delle case discografiche, non si lascia condizionare dalle classifiche di vendita o dai gossip, si concentra sulla qualità e sulla passione degli artisti e inizia a raccontare le emozioni della musica a modo suo. Con il tempo la rivista cresce, si apre a vari generi musicali, dal jazz al soul, dal folk alla musica italiana. Aumentano i lettori, aumentano i consensi, fino ad arrivare ad oggi, 40 anni dopo. Una lunga strada disseminata di successi e di soddisfazioni, un traguardo che è giusto festeggiare e celebrare. A causa del covid, dice Andrea Parodi, anima di Buscadero, dovremo rinunciare al nostro tradizionale Buscadero Day, la festa internazionale della musica che negli ultimi 11 anni ha coinvolto più di 500 band di fama mondiale. Ma il 21 dicembre alle 17 verrà trasmessa in diretta una vera e propria maratona musicale. Per assistere basterà collegarsi al sito buscadero.com Ci sarà un video che sarà qualcosa a metà strada tra un concerto in streaming e un documentario con tante testimonianze d'affetto, aneddoti e canzoni proprio dal vivo che arriveranno, molte e molte arriveranno dall'America perché poi il Buscadero ci ha fatto scoprire soprattutto la grandissima canzone americana. La nostra musica non ha tempo ed è destinata ad emozionare il pubblico per sempre, aggiunge Paolo Carù, tra i fondatori di Buscadero, oltre che anima del negozio Carù Dischi di Gallarate, punto di riferimento per appassionati di tutto il mondo. Andiamo a cercare delle cose un po' classiche, che piacciono a noi, che piacciono ai nostri lettori, dove c'è ancora lo studio di registrazione, dove il musicista si ritrova magari con i musicisti che a lui piacciono, con gli amici, con i colleghi di cui si fida per fare il disco, che è un po' un metodo di lavoro, diciamo, da altri tempi, ma per certi versi forse è quello che rende questa musica ancora affascinante, e poi soprattutto strumenti veri, musica vera, canzoni nate con l'ispirazione, un po' come una volta, per cui sì, ci sono tante cose che sono nuove, però la tradizione della musica reale, vera, è ancora quella di una volta.